Questo programma è offerto da Centro Sportivo Football 24, un'oasi sportiva immersa nella città. Le previsioni del tempo per la provincia di Messina. Oggi, giovedì 13 marzo, cielo in prevalenza sereno per l'intero corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 9 e i 14 gradi. I venti soffieranno deboli in direzione sud. I mari calmo sia il tirreno che lo ionio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.